Sinergia 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Sono in compagnia di Francesco Chechile, founder e CEO di House for Crowd. Parliamo di crowdfunding immobiliare. Ciao Francesco, grazie per essere qui. Ciao Gerardo, grazie per l'invito. Com'è andata oggi? Tutto bene, una giornata intensa però molto positiva, ricca di spunti su Tutti i settori, siamo passati dal crowdfunding ai dati al futuro delle agenzie immobiliari che sembra quasi evidente uscita da questa giornata Allora, House for Crowd è crowdfunding immobiliare, lending crowdfunding immobiliare, giusto? Noi facciamo equity crowdfunding, siete pochissimi in Italia. In Italia siamo autorizzati adesso in quattro, operativi in tre Come puoi essere d'aiuto al settore immobiliare e soprattutto che relazione puoi creare con gli agenti immobiliari? Allora, è evidente che per l'utilizzo del crowdfunding per il settore immobiliare è un'opportunità quasi unica in quanto c'è l'opportunità di realizzare investimenti in tipologie di immobili che semmai un investitore non farebbe in quanto la limitazione di capitale non gli permetterebbe ad esempio di acquistare, ti faccio un esempio banale, un albergo mentre con il crowdfunding può avere accesso anche a quegli immobili che offrono un rendimento semmai molto elevato e con un accesso limitato Noi per esempio permettiamo di investire a partire da 500 euro sui nostri progetti pubblicati sul portale Il vantaggio che possono avere gli agenti immobiliari nel crowdfunding ci sono sinergie in quanto possono offrire ai propri sia investitori che operatori con cui lavorano sono un'opzione sia di investimento, se si tratta di investitori, che di finanziamento alternativo ai propri operatori immobiliari con cui lavorano Quindi insomma un'opportunità che si aggiunge alle tante già sul mercato Ti ringrazio, ci vediamo nel 2020, ti aspetto Perfetto, ciao